o benvenuto tutti quanti ragazzi in questo nuovo video e video insomma dove ovviamente come sempre quando esce un nuovo pacchetto vi dico più o meno quante carte ur varie eccetera dovrete sbustare all'interno dei pacchetti per cercare di non sbagliare nessun colpo ok per cui siamo qui con l'uscita ragazzi il pacchetto orgoglio indomabile andiamo direttamente nello shop ragazzi orgoglio indomabile e la busta segreta trascendentalismo che parlando prima di questa qui ragazzi tornano i dinomorfia per cui con un pacchetto segreto ok per chi volesse fare dinomorfia che molti me lo chiedevano eccetera ragazzi non riesco a montarlo c'è troppa troppa roba che serve in tre per e non ho abbastanza risorse e però comunque sono state aggiunte carte come trascendosauro meteorsauro epicentro xeno e appunto le altre carte appunto trascendosauro insomma che del pacchetto wild survivor dei vanquish soul ok per cui ci sarà un upgrade dei deck dinosauro dei deck dino e così via che vedremo di andare a fare adesso devo trovare il modo comunque di uscirne fuori anche con queste carte che veramente ragazzi sono tonnellate di wear perché noi ci siamo concentrati principalmente oltre comunque ai accessori soliti che escono ragazzi ogni mese ci siamo preoccupati principalmente di se sentite russare non è colpa mia mio fratello cioè non è colpa mia vabbè del pacchetto orgoglio indomabile ragazzi non so come si chiama in inglese non me lo ricordo laddove appunto escono i superi di samurai nuovo tier 1 ragazzi all'interno di master duel senza nessuna banner di emergenza per cui tutto completamente libero e disponibile da poter utilizzare ragazzi alla massima potenza per cui mi raccomando ragazzi superi di samurai ve lo dico subito top meta istantaneamente laddove appunto andiamo a vedere che abbiamo uno pair di samurai super pesante coraggioso musarawo mi raccomando ragazzi se lo sbustate tenetene uno se invece non lo sbustate potete aspettare una teo per capire se giocarlo o meno perché comunque è una carta molto forte una carta molto spicy e sarà molto interessante giocarla però dobbiamo vedere comunque anche come gestire un extra deck all'interno qua di master duel con la presenza di max c e così via per cui dobbiamo vedere rispetto all'irl no come gestirlo intanto ragazzi sul discord eccetera e domani arriverà ovviamente la videoguida ci sarà la versione del mio mazzo di quello che gioca io in tcg ok per cui comunque detto col musarawo ragazzi passiamo a parlare della moto ragazzi 3x assolutamente così 3x come il waka usci e 2x il benkei questo 3x è troppo 1x è poco 2x obbligo d'obbligo almeno per quanto mi riguarda 2x è il numero giusto di questa carta per cui abbiamo un quantitativo obbligatorio di 3, 6, 7, 8 ore per montare superi di samurai staple a parte per cui un altro tier 1 che comunque si può montare con poco diciamo staple a parte sempre ok poi il pacchetto ragazzi presenta sì anche questo samurai super pesante spadacino musashi non vi serve per cui potete scartarlo ok presenta carte nemleria che molti vogliono il nemleria ma ragazzi detto sinceramente no nel senso potete buttarli nel cesso per cui potete buttarle agilmente via queste carte e potete buttare via ovviamente anche veda calanta ok proprio potete toglierlo di mezzo mentre l'artista amico mago celestiale è una ristampa per cui ragazzi è inutile discuterne se giocate pendant un magician sapete già che lo dovete tenere altrimenti sapete già che lo potete buttare mentre voglio mostrarvi invece il gold pride ragazzi dato che sono usciti appunto e hanno annunciato anche nuove carte per l'ocg che poi arriveranno anche tcg eccetera eccetera per chi piace perché comunque è un deck molto bellino anche perché col terror top a 3 potrete andare a fare agilmente l'orgoglio d'oro carro cadry ok che di conseguenza vi permette appunto di startare e di startare soprattutto andando a prendere la tanky perché questa è una tanky ragazzi che vi permette anche di pescare vi permette di andare in vantaggio appunto life points nel senso che perdete life points per attivare gli effetti di tutti i vari gold pride se siete in vantaggio life points e potete unire il deck ragazzi ai punk ok di conseguenza ovviamente porteremo il deck in qua su youtube qua sul canale lo portiamo in live l'abbiamo già portato in live per cui di conseguenza potete trovare il vod sia su twitch sia sul canale youtube ok per cui penso che il deck comunque possa con terror top a 3 possa comunque avere un suo engine molto carino molto bellino comunque da giocare per cui parlando delle guerre saranno uno per star lion questa carta qui dipende perché vento gioca bene con attacco è tombor terror top livello 3 e tuner entra special e borna gli altri gold pride per cui è molto molto forte allora questo qui ragazzi io ce l'ho in tre per naturalmente perché dobbiamo vedere anche come gestirlo se voi ne sbustate uno due così via aspettate magari di craftarlo prima ragazzi per vedere se comunque le versioni migliori dei mazzi ne possono sfruttare tre oppure meno ok per cui intanto voi sbustate magari sbustate super di samurai e così via ma insomma con questa carta qui state un attimino accorti a quante copie avete non necessitate cioè non necessita il deck di averne tre subito così non è che non necessita di averne solo per forza uno per cui qui c'è da lavorarci ok poi abbiamo due per di andrà meglio la prossima volta ragazzi dico due per perché tre è troppo questa carta qui tre per è troppo perché la vai già a prendere con la carry ok e uno per a me sembra poco e due per come per il benchè secondo me è il numero adatto perché o ce l'hai in mano eventualmente oppure la vai a prendere direttamente di carry e poi se te l'eliminano comunque ne hai a disposizione un'altra eventualmente ok comunque per andare in plus ma detto questo a proposito di gold pride ragazzi hanno anticipato da età del sovrano agov ragazzi come alcune altre carte tipo jaolong dei vanquish e così via hanno anticipato manadium trisutta che di conseguenza grazie all'uscita di visas amritar che fa parte del set di duelist nexus dune appunto che è il set su cui ci stiamo per interfacciare da febbraio in poi principalmente ragazzi avremo finalmente manadium che potrà effettuare la one card combo ovviamente abbiamo già portato il mazzo in live dobbiamo masterarlo dobbiamo migliorare ovviamente la decklist e ovviamente la combo verrà mostrata anche qua su questo canale oltre che in live ebbene ragazzi detto questo spero di essere stato abbastanza esaustivo questo qua è un ottimo set veramente ottimo per manadium per supervisare che un nuovo tier 1 gold pride che è veramente un deck molto spicy molto divertente ragazzi e ve lo consiglio se avete quei cpu in più se sbustate quella carta in più ragazzi ve lo consiglio non siate affrettati a farli mi raccomando e per il resto noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video mi dispiace di avervelo pubblicato ragazzi un po tardino perché comunque ripeto è una settimana molto particolare dove sto dormendo poco ma comunque eccolo qui e noi ci vediamo un prossimo video il prossimo video ragazzi sarà la video guida di superiore di samurai perché è il deck che insomma è il tier 1 e tutti lo stanno aspettando di più rispetto agli altri ma arriveranno ovviamente anche gli altri per cui preparatevi anche i video che vi avevo promesso per dicembre ma poi è uscita la banner e finalmente adesso che è il 10 di gennaio è in vigore anche la banner per cui dovremo rifare anche un po di mazzi e un po di video ok ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video e alla prossima iscriviti al canale